salvatore pelliccia si avvicina la sfida di domenica col formia il recupero della ventiduesima giornata sarà la prima di tre gare molto delicate prima però bisogna avere la meglio su una formazione che giocherà il tutto per tutto per evitare l'ultima posizione si sappiamo la difficoltà della partita che ci ci aspetta perché alla fine è una squadra che ha bisogno di punti come noi anche se per loro sarà ancora più determinante il risultato e andremo lì a fare la nostra partita cercando di portare i punti a casa un gladiator che arriva dal ko ma testa altissima contro il giuliano quindi ha voglia di riscattarsi possibilità di salvezza evitando i play out ci sono però è chiaro che tra fine marzo e tutto aprire sono giornate decisive sì in queste partite abbiamo avuto la diciamo la consapevolezza di poterci a giocare con tutti quindi tutto dipende da noi siamo un bel gruppo una bella squadra possiamo fare solo bene domenica partita come ti diceva delicata formia sperando di poter avere ancora una volta l'apporto dei tifosi perché anche a giuliano sono a corsi in massa per una partita che era un derby e domenica e i punti valgono doppio sì sicuramente faremo vorremmo fare anche una partita per loro che ci seguono dappertutto e meritano meritano risultati favorevoli grazie a tutti